E' divisa in due parti la mostra Cantieri e Cantierini al Museo Carà di Muggia fino al 10 settembre. Organizzata dal Comune con l'Associazione Marinara Aldebaran, il Comune di Monfalcone, la Regione, l'esposizione curata da Francesco Faite e Marzia Piuca, ripercorre la storia di tre storiche realtà muggesane, i cantieri San Rocco, Martinuzzi e Felsegi. Fino al 20 agosto questa piccola ma grande epopea è raccontata anche mediante una serie di testimonianze raccolte in un video attraverso le figure di chi in quei cantieri vi ha lavorato. Abbiamo dedicato una mostra alla raffineria Aquila e ci eravamo accorti che molte persone a mostra inaugurata avrebbero voluto collaborare conferendo materiali per il progetto dedicato ai cantieri e abbiamo pensato di invertire l'ordine dei fattori, di invitare prima la gente a collaborare e poi allestire la mostra. In mostra dunque si possono vedere documenti, fotografie, attrezzi da lavoro persino i tarlis ma anche oggetti più grandi finiti nelle case dei muggesani. La seconda parte dal 25 agosto alla chiusura dell'esposizione sarà incentrata sulla realizzazione delle navi attraverso una serie di testimonianze più tecniche se vogliamo, a ripercorrere vicende che parlano anche di imprese coraggiose spinte al limite, come quella della nave Italia che per alcuni aspetti decretò l'inizio della crisi della Felsegi. La direzione del cantiere ha questo pallino di voler fare una nave passeggeri mentre fino a quel momento ha prodotto traghetti, navi mercantili, navi cisterna, maone e altre navi. E questo probabilmente è una situazione in cui l'azienda fa il passo più lungo della gamba perché l'Italia è una nave molto ambiziosa, una nave molto veneristica nelle linee, nelle scelte, nelle soluzioni che anche, a quanto mi dicono gli esperti di cose, insomma, della navalmeccanica che poi ha suggerito alcune delle navi impostate successivamente.